A partire da giovedì 19 maggio, tutti i giovedì mattina, sarà attivo presso l'ospedale Luigi Curto di Polla un nuovo servizio ambulatoriale per le future mamme, fortemente voluto dal responsabile dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, dottor Francesco De Laurentis. Al servizio ambulatoriale di ginecologia, attivo quattro giorni settimanali, è stato aggiunto un ulteriore giorno di apertura del servizio, destinato esclusivamente all'effettuazione di controlli specifici a cui devono sottoporsi le donne in gravidanza, quali visite, ecografie e cardiotopografie, per verificare il benessere del feto. Massima attenzione quindi ai bimbi già a partire dal momento del concepimento e per i primi mille giorni di vita presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, già dotato da diversi anni dell'apparecchio per lo screening audiologico neonatale, che negli ultimi giorni è stato consegnato dall'aslo di Salerno ad altri presidi ospedalieri dotati di punto nascita. Il reparto di pediatria del Curto, diretto dal dottor Teodoro Stoduto, è invece dotato dello strumento già da diverso tempo, riuscendo così ad aderire al progetto di assistenza ai bimbi e alle famiglie nei primi due anni di vita, denominato appunto primi mille giorni di vita, ritenuti da esperti psicologi e medici pediatri i più importanti per il benessere fisico e psichico del bambino. Da circa dieci anni presso l'ospedale di Polla, servendo anche ospedali di Potenza e Lago Negro, viene effettuato con regolarità lo screening audiologico neonatale per verificare la regolare funzionalità dell'udito del neonato e poter accertare già alla nascita eventuali deficit uditivi. Intanto è stata preannunciata un'altra attesa novità per il punto nascita di Polla. Dalla direzione sanitaria guidata dal dottor Pasquale Vastola si punta all'attivazione del roaming in, che consente la permanenza del neonato nella stessa stanza della mamma sin dalle prime ore dopo il parto, idea fortemente caldeggiata anche dal dottor De Laurentiis. Il dottor Vastola sta operando energicamente per garantire l'attivazione della pratica anche presso l'ospedale Pollese, consapevole del ritardo rispetto ad altre strutture sanitarie dove già da anni il neonato e la sua mamma condividono la stessa camera. Ciò però non può essere attivato senza aver predisposto un'attenta organizzazione prevalentemente incentrata sulla tutela della salute del piccolo che necessita nei primi giorni di assoluta cautela e adeguata assistenza. Il dottor Vastola spiega infatti che vi è tutta l'intenzione di attivare il servizio anche a Polla, ma che l'organizzazione e la cura dei dettagli richiede tempo e attenzione che non possono essere lasciate al caso e non possono essere ritenute di secondaria importanza, ma piuttosto sono da ritenersi fondamentali. Al momento è al vaglio del dottor Vastola e dei reparti interessati la scelta sull'attivazione tra le 12 ore o le 24 ore, una valutazione che richiede anche l'analisi di diversi aspetti, tra cui la disponibilità di personale sufficiente per poter garantire il servizio e predisporre anche l'accesso e la gestione delle visite.